Si decide tutto nel secondo tempo questo bustese villanterio che praticamente certifica la permanenza dei granati in eccellenza. Alla rete di guarda al secondo risponde Vieri dieci minuti più tardi. Nel recupero il tocco sottomisura di Romano fa esplodere il battaglia e consente a mister Cavicchia di ottenere la terza salvezza consecutiva, particolare non da poco, intervenendo ad opera in corso.